Pronto? Donald Stevens Sì? Mi chiamo Sean Fenters Come? Ho prestato servizio con suo figlio Colter Santa Cielo Mi dispiace aver lasciato passare tanto tempo Prima di chiamarla E' che certe volte ci vuole un po' per decidere cosa si vuole dire Capisce? Non sia troppo duro con se stesso Non è una telefonata facile da fare, immagino Come sta, signore? Ecco Mi sono tornato solamente un po' di ceneri E' difficile credere che questo sia stato lui Lo conosceva bene? Oh Ero con lui quando è morto, signore Mi aveva detto Che l'ultima volta che avevate parlato era 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 stato poco piacevole E Voleva dirle che le dispiaceva Io vorrei solo che tornasse Io volevo un bene dell'anima Avrei voluto dirglielo Ma lui lo sa Stia bene, signor Stevens Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti